Grazie a tutti Eccoci qui, bentornati all'appuntamento di questa settimana con Terra e Acqua TV Io sono Elena Tambini e anche quest'oggi vi accompagnerò per approfondire gli eventi più interessanti del territorio Nonostante la pioggia di questi giorni il tempo sembra promettere bene per questo weekend Direi per fortuna perché gli eventi che andremo ad approfondire tra poco sono tantissimi Avremo qui con noi studio Claudia Taibetz, responsabile del tempo libero dell'area cultura del Comune di Cernobbio Che ci parlerà e ci presenterà il cartellone del Festival Città di Cernobbio che inizia proprio questa settimana Parleremo poi del doppio appuntamento delle date del Festival Terra e Acqua che approderà questo sabato a Zelbio E poi subito dopo domenica a Briennu Infine durante le date del Festival vi ricordo la possibilità di salire a bordo del Patra E recarsi sul luogo della festa direttamente col piroscafo Durante queste crociere suoneranno i Menagrama che sono un gruppo musicale molto rappresentativo della cultura locale Che intervisteremo oggi Uno spazio particolare infine sarà dedicato alla ricetta tipica di due piatti del Lago di Como Che potrete gustare durante una delle date del Festival Prima di partire per il nostro viaggio di oggi vi ricordo che se avete qualche evento interessante da segnalarci Potete scrivermi all'indirizzo terraeacquatv.com Prima di incontrare i nostri ospiti vi siete mai chiesti come si muove il piroscafo Patria? Bene, tra pochissimo incontreremo Gino Quarenghi, uno dei macchinisti storici del piroscafo Siamo nel cuore del Patria, nella sala macchine E con noi c'è un membro storico dell'equipaggio del Patria che è il signor Gino Quarenghi Gino, lei è qui un po' a casa sua? Eh, abbastanza Quando hai iniziato a lavorare sul Patria? Sul Patria è stato nel 1974 più o meno da fochista Perché ho fatto gli esami nel 1972 E l'abbiamo portato, ci siamo portati avanti fino al 1990 Dove è stato fermato in cantiere a Tavernola E da lì è cominciata la storia che è terminata l'anno scorso Come mai porta questo asciugamano? No, ma sì, bisogna cambiarsi qualche maglietta in più Ma è motivo di soddisfazione per non andare dall'estetista Ecco, perché qui in questo reparto Quando il Patria parte le temperature si alzano Eh, una quarantina di gradi, lasciamo perdere gli altri Una bella sauna Una bella sauna Come funziona il motore di un'imbarcazione così grande e così antica? Niente, è presto visto perché sono due cilindri Queste due caldaie Che sono alimentati da riprocciatori a gasolio Queste caldaie sono piene di acqua E producono, chiaramente aumentando la temperatura Come la pentola a pressione Per essere proprio chiari, cioè banali Ci si porta 12 atmosfere E praticamente la caldaia è pronta per dare questo vapore alla macchina Perché il Patria funziona ancora a vapore come era nel 1926 È cambiato solo, diciamo, la parte di produzione Che prima era carbone, poi era nafta pesante Poi era nafta leggera Poi adesso a gasolio Però praticamente la macchina è sempre alimentata a vapore Una volta poi avviato il motore, cosa succede? Niente, una volta... Allora, c'è ancora qualcosina da fare Perché noi, dando vapore, diciamo, alla sala macchina Che vedremo dall'altra parte L'altra sala Dobbiamo prediscaldare questa massa di ferro Che è abbastanza importante Non è una cosina del motore della macchina O anche di qualche imbarcazione grossa E lì bisogna andare molto piano piano Cioè scaldare praticamente col vapore Tutte le sei parti in movimento Per poi, facendo praticamente girare le ruote Per un next tempo Per prepararci praticamente alla partenza Quanto tempo ci si impiega circa? Circa su due ore e mezza, tre Diciamo, dalla produzione a vapore Fino ad arrivare alla partenza Andiamo di là a vedere il resto della sala macchina Andiamo di là Ok Andiamo di là Gino, qui siamo nella postazione di macchina Cosa fai qui durante la navigazione del patria? Qui eseguiamo gli ordini del comandante Perché loro vedono purtroppo Cioè il comandante è timoniere Vedono la rotta, seguono la rotta Poi quando si arriva al pontile Ci avvertono praticamente Che siamo vicino al pontile E noi dobbiamo eseguire Guardando il telecomando Quello che la coperta ci dà E gli ordini che ci dà Perché, ripeto Noi possiamo solo fare l'inversione della macchina Fermarsi e partire Perché non vediamo più di tanto Salvo gli organi meccanici Gino, ti faccio un'ultima domanda Poi ti lascio lavorare Perché so che tra poco salverete Per la crociera di questa sera Cosa hai provato Quando dopo 23 anni Ti hanno chiesto di tornare a far navigare il patria? I pensieri sono stati tanti Perché di parole ne abbiamo fatte tanti Di comitati ne abbiamo fatti tanti Ed effettivamente io proprio Non ci credevo minimamente Che potesse succedere Perché in Italia si sa benissimo Che si parla quasi sempre e basta Invece devo dire che tramite la provincia di Como Abbiamo realizzato un bel sogno Si tratta poi di mantenerlo Adesso il problema Di essere arrivati qua è importante Vorrei sperare Non con me Ma con quelli che seguiranno Spero anche giovani E spero presto Per poter portare avanti Questo progetto Che effettivamente Meritava di essere Di essere praticamente Un grande in bocca al lupo a te Tutto il tuo equipaggio Sperando che avvenga presto Anche un passaggio di consegni In modo che il patria Possa continuare a vivere Nelle generazioni future Ti lasciamo al tuo lavoro E buona crociera da qua sotto Grazie È ricchissimo il programma di eventi Che è il Festival Terra e Acqua Lago di Como Preparato per la prossima Data che si svolgerà a Zelbio Questo sabato Musica live E tantissimi spettacoli Animeranno le vie del paese Ci sarà spazio anche per lo sport Verranno infatti allestiti spazi Per lezioni E tornei di tennis E pallavolo Sul palco la sera Per lo spettacolo Avremo i menagrama Che suoneranno Le canzoni di Davide Van des Fross E tanto altro Ci saranno spettacoli Per grandi e per piccini Ci saranno come sempre I burattini di Dario Tognocchi E gli artisti di strada Per le strade potrete incontrare Infatti il domatore di fuoco Che vi insegnerà come giocarci E tanti mercatini del tipico Con salumi Formaggi Vini E dolci locali Infine ci saranno le proiezioni Verrà infatti mostrato Il video omaggio di Mario Bianchi Con i film più celebri Girati sul lago di Como E infine per la prima volta In versione integrale La puntata di Terra e Acqua Dedicata al comune di Zelbio Di cui ora vediamo Una piccola anteprima Il giro della Terra È una commemorazione Si ricorda negli anni Nel 1630 Quando c'è stata la peste La leggenda del paese Dice che sono rimaste Solo due donne Che per tradizione Tutti gli anni Facevano questo giro In ginocchio Si pensa Allora È un antico rito Un'usanza Nata proprio perché Si è scongiurata Una tragedia La peste che ha colpito In quel momento Tutto il mondo circostante Riesce in qualche modo A salvare qualche persona Di Zelbio Primo di febbraio 99 su 100 C'era sempre la neve Su questo passaggio E c'erano i bambini Che facevano La cosiddetta pedana Cioè facevano pulizia Della neve E dopo aver terminato Questo la sera Andavano nelle case Dei contadini Dei locali Dei paesani Di allora A prendere una Una questua Farina O del formaggio È con noi Claudia Taibetz Del comune di Cernobbio Per parlarci Del festival Città di Cernobbio Un appuntamento Attesissimo ogni anno Che quest'oggi È arrivata Alla sesta edizione Benvenuta Claudia Siamo che quest'anno Il festival è giunto Alla sua sesta edizione Che ci sono alcune piccole novità Infatti sappiamo Che avete cambiato formula Quali sono queste novità In merito all'edizione Di quest'anno Grazie per averci invitato A presentare Questa nuova edizione Del festival Che come tutte le stati Torna con un appuntamento Di cinque date In Villa Erba Cernobbio Una splendida location In riva al lago Aperta per l'occasione Ad un pubblico Che noi Come per gli anni passati Speriamo numeroso Il festival Si aprirà Il 30 luglio E continuerà Fino all'8 agosto Una delle novità Come tu giustamente Accennavi È il fatto Che gli spettacoli Si svolgeranno Da quest'anno All'aperto Abbiamo scelto Di allestire dei palchi Davanti alla facciata principale E uno Invece sul lato lago Che è proprio quello Di Davide van des Froos Perché ci sia comunque Un legame continuo Tra l'acqua E questo spettacolo suo Dove proprio Il territorio È fondamentale Ed è il protagonista Certo Il territorio Nello spettacolo di Davide Che ricordiamo Sarà presente Durante le date Del festival di Cernobbio Con il suo show Terra e acqua È proprio uno spettacolo Che vuole portare Scena al territorio Oltre a Davide Però ci sono tanti altri artisti Anche di generi diversi Ci dai qualche anticipazione? Sì Anche il festival 2014 È improntato Alla contaminazione Tra i vari generi E il cartellone Prevede spettacoli diversi Perché uno degli obiettivi È quello Di coinvolgere Il maggior numero Possibile di spettatori E quindi un pubblico Differenziato Avremo La grande opera Con la lirica Al barbiere di Siviglia Ma anche il jazz Di Simona Molinari In chiusura festival Che è il legame Con la tradizione Di questa Kermes È un omaggio A un grande del passato Simona Molinari Infatti In anteprima assoluta Proprio a Cernobbio Ci darà un assaggio Di quello che sarà Il suo prossimo spettacolo Dedicato a Ella Fitzgerald Ma abbiamo anche Una proposta Per i giovani Che è lo spettacolo Di apertura Il vertical mode Dei Motel Connection E Giuliano Palma Che sicuramente Farà ballare Tutti i presenti Quindi tantissimi spettacoli Per i quali sappiamo Che il pubblico Può usufruire Di una formula Agevolata Per il biglietto Sì Quest'anno abbiamo Inserito un biglietto Di ingresso Un biglietto Di 10 euro Che però Con una formula Speciale di abbonamento Permette l'ingresso A tutti gli spettacoli Ah Possiamo ricordare Dove si può Comprare questo biglietto Dove si possono trovare Tutte le informazioni Relative al festival Allora Tutte le informazioni Sono sul sito Dell'evento www.festivaldicernobbio.eu Sulla pagina facebook Dedicata Mentre i biglietti Possono essere acquistati Ancora in prevendita Sui circuiti Viva Ticket Oppure venendo Al comune di Cernobbio All'ufficio cultura Negli orari di apertura Al pubblico Tutti i giorni Dalle 8 e mezza Alle 11 Nei giorni di spettacolo Attiveremo invece Una biglietteria Aperta già dalle 17 Dove è possibile anche Cambiare i biglietti Acquistati in prevendita Una in Villa Erba E una in Villa Bernasconi Perfetto Una domanda Claudia Hai parlato di Contaminazioni di genere Di social art Sappiamo che proprio In questi giorni A Cernobbio Prende il via Un'altra iniziativa In questo senso Sì Abbiamo riaperto La Villa Bernasconi Lo splendido Gioiello Liberty Del comune di Cernobbio Ospitando una mostra Che si chiama Ingrediente segreto D Perché è una mostra Di social art? Perché l'artista Che espone Elena Nuozzi In illustratrice È così definita Dalla critica Trae infatti Ispirazione Per le sue opere Dalle suggestioni Che il pubblico Di Facebook E degli altri social Suscitano in lei Il comune di Cernobbio Partendo da Delle iniziative Organizzate per la festa Della donna Ha quindi lanciato Questo appello Alle donne Di rivelarci Attraverso un selfie video Di un minuto Qual è l'ingrediente segreto Che fa il successo Che fa il loro successo Nel mondo del lavoro Nella scuola O comunque più in generale In vita Qua ci sono le istruzioni Per realizzare il selfie video Ci piacerebbe Che anche tu partecipassi Molto volentieri Perché comunque Tutti i video Che stanno ancora Arrivando in mostra Potranno essere scelti Da Elena Per l'ultima tela Che manca E che sarà realizzata In live painting Alle 18.30 Alle giorno di ferragosto Molto interessante Un'iniziativa dedicata Alle donne Dunque Io ringrazio Claudia Taibetz Per essere stata con noi E averci raccontato Tutte le iniziative culturali Del festival Città di Cernobbio E anche della mostra Che si svolgeranno Proprio in questi mesi In questi mesi estivi Vi ricordo che le date Del festival Si terranno anche In caso di maltempo Negli spazi chiusi Di Villa Erba Ora vi saluto E mi concentro sul selfie Che anch'io invierò A brevissimo Ora vi lasciamo Alla pubblicità Torneremo tra pochissimo Per parlare del secondo appuntamento Col Terra e Acqua Festival Ora torniamo a parlare Del nostro festival Terra e Acqua Lago di Como Che questa settimana Raddoppia il suo appuntamento Domenica infatti Raggiungerà le rive Del paese di Brienno Anche durante questa data Saranno tantissimi Gli spettacoli E le esibizioni live Lungo tutte le vie del paese Ci saranno visite guidate Per i borghi E per le chiese di Brienno Fino arrivare Alla galleria Mina Che sarà riaperta Straordinariamente Per questa occasione Saranno visitabili I suoi cunicoli Scavati nella roccia Nel cuore della montagna Dove sarà inaugurata Una mostra di installazioni luminose Realizzate dagli ex studenti Della scuola di design Naba di Milano Per i più piccoli Ci sarà lo spettacolo Di burattini Di Dario Tognocchi Che racconta Le otto leggende del lago Nelle strade Le magie e gli scherzi Dei giocomatti Clown che promettono Grandi risate E ancora la suggestione Della poesia E canzoni d'altri tempi Del teatrino di noi E il country Degli old and youngers In anteprima La puntata di terra e acqua Di Davide van des Fross Dedicata a Brienno E il video omaggio Di Mario Bianchi Vediamo ora Davide van des Fross Direttamente Dalle rive di Brienno Io sono arrivato Ho sentito un vuoto incredibile E l'acqua aveva trascinato A lago completamente Il ponte Le case qui Ed era una montagna incredibile Di sassi di terra Che circondava Tutta questa zona Le pietre si scaldano Per le vie di Brienno Le pietre affondano Tovaglie di alghe Uova di pesci Le fanno cambiare Ma pietre saranno Per sempre Come quelle Delle sue case Come quelle Delle sue rive Pietre Usate per costruire Pietre crollate Pietre Pietre che hanno distrutto Altre pietre Pietre posate Per far camminare Qualcuno Sopra di loro Per giocare A rimbalzare Sopra le onde Per avvolgere Il filo E fare da spola Tra ciò che sta fermo E ciò che si muove Durante la data del Festival Terra e Acqua di Brienne Il prossimo 3 agosto Non ci saranno soltanto spettacoli Ma anche un momento culinario In cui potrete assaporare Tantissime ricette tipiche Del lago di Como Sotto i porti c'è lago Infatti La Proloco allestirà Un servizio Dove saranno serviti Polenta Missoltin Pesce in carpione Mortadella di Brienne E tanto altro Oggi siamo qui Con i ragazzi Del centro di formazione Di Montolimpino Per farci spiegare Due di queste speciali ricette Benvenuti Andrea e Camilla Che ricette ci spiegate oggi Andrea? Allora oggi andremo a proporre Il pesce in carpione E la polenta uncia Allora il pesce in carpione È una ricetta tipica del lago di Como E viene essenzialmente fatta Per conservare il pesce Che viene pescato in eccesso Il pesce viene fritto E viene conservato nel carpione Che è una salsa a base di aceto Vino E verdure miste Come sedano, carote e cipolle Per realizzare questa ricetta Sono necessarie Cipolle Sedano Carote Olio per friggere il pesce Aceto di vino bianco Farina per infarinare il pesce Timo Sale Pepe Alloro Ed infine L'ingrediente principe Il pesce Il lavarello E quali sono i pesci Che si possono utilizzare Per questo tipo di ricetta? Ma diciamo che come vi ho detto È una ricetta di Per conservare il pesce Che viene pescato Quindi si può usare un po' Tutto il pesce Che viene pescato Dall'alborelle All'anguilla Alla trota Agli agoni anche Riesci a spiegare ai nostri telespettatori a casa Brevemente come si può cucinare questa ricetta? Allora, è una ricetta molto semplice Si prende il pesce Lo si pulisce Lo si infarina E lo si frigge in olio Nel frattempo si preparano Sedano, carote e cipolle a julienne Le si fanno stufare in pochissimo olio E dopodiché si versa sopra Aceto e anche del vino Foglie d'alloro Pepe E timo Una volta che il pesce è fritto Viene messo generalmente in terrine E viene ricoperto con questa salsa Viene fatto riposare per qualche giorno In frigorifero al fresco E poi può essere consumato Un altro piatto che troverete spessissimo Durante le date del Festival Terra e Acqua È la polenta uncia Andrea, raccontaci Come si cucina questa polenta? Allora, è un piatto semplice Ma a lungo da preparare Nel senso che la polenta deve cuocere Almeno, almeno tre quarti d'ora, un'ora Noi utilizziamo, allora Farina di mais Farina di grano saraceno I formaggi per condirla Burro Salvia E aglio La polenta Si fa una classica polenta Quindi con acqua Noci di burro all'interno Sale La si fa cuocere Ed infine la si condisce con il formaggio E la si copre con burro fuso E aglio dorato Come si fa a cuocere? Perché io ti dirò un segreto Non sono molto pratica di cucina Quindi per me queste sono tutte cose nuove Ho mangiato spesso la polenta Ma difficilmente l'ho cucinata Allora si fa bollire dell'acqua Generalmente si mette dentro del burro La si sala E si mette la farina Poco per volta Continuando a frustarla Una volta che si ha comunque Possiamo chiamare un composto omogeneo Si inizia a girare con il tarai Che è il classico mestolo di legno Quindi il formaggio si mette soltanto dopo? Il formaggio si mette soltanto dopo Ringrazio Andrea Camilla Per la loro spiegazione Su questi piatti tipici del nostro lago Vi invito durante le date del festival Ad assaggiare i fantastici menu Che vengono proposti E adesso ci rivediamo tra pochissimo Con altri protagonisti delle crociere sul patria Se ci sarà Questo lago si ricorderà Di una canzone che Cantava di lui Se porterai Un altro bacio sul pelo dell'ultima Ammirerai il riflesso su di sé Mi trasporterà Una preva mi trasporterà Che ma culerà Vela mia pelle Portami con te Mira luna Hai il film in del Toda shtegno Vuolta te ti faccio Ma metta gira Ma tu portami con te Portami con te Mira luna Dove il tuono inizia il suo cammino E se in cala lena Se ribalterà Mira luna Portami con te Chi è già salito sul piroscafo patria Durante una delle magiche crociere Del festival Terra e Acqua Lago di Como Ha già avuto modo di conoscerli Mentre i cowboy I fan di Davide Vandesfrost Li conoscono da tantissimo tempo Sono i Menagrama E sono qui con noi oggi Benvenuti ragazzi Grazie Gianluca Tu che canti E guidi questo gruppo Raccontaci un po' Com'è nato I Menagrama Sono nati nel 2008 Principalmente da un gruppo di amici Si tornava da una vacanza In Val di Fassa Passata praticamente A suonare in giro Per i sentieri Per le valli In montagna Nei rifugi Tornati a casa C'è venuto l'idea Di trovarci A suonare insieme Da quell'idea Prove dopo prove Date dopo date Si sono formati E consolidati I Menagrama Nel frattempo Di quella compagnia Qualcuno è andato Qualcuno è arrivato Ma Si sale sempre Sul palco Con quello spirito lì Che è quello di una Suonata e cantata In compagnia Anche se poi la compagnia È più allargata Quando ti trovi davanti Più persone Più gente Ai concerti Dalle canzoni Di Davide Vandesfrost A delle canzoni Tutte vostre Il passo Sembra semplice Ma non è proprio così Ma le canzoni nostre Esistono ancora prima Probabilmente che Abbiamo iniziato A suonare insieme E a portare in giro La musica Siamo partiti poi Dalle canzoni Di Davide Vandesfrost Perché Era un qualcosa Che ci rappresentava In prima persona E rappresenta Questa terra Era giunto il momento Di portare in giro Le nostre canzoni Perché Gli anni Le situazioni Anche la gente Desiderava sentire Altre storie Altre canzoni Altre emozioni Che raccontassero Di questo lago E di questa terra Assolutamente E quanti sono i musicisti Che compongono il vostro gruppo Ne abbiamo qui Una bella rappresentativa Ma sappiamo che manca Anche qualcuno Sì diciamo che qua Siamo la metà Abbiamo Alessio Alla chitarra solista Federico all violino Guido al basso Luca alla batteria Martina alla voce E se non ho dimenticato nessuno No Michele alla fisarmonica Samuele al trombone E Tommaso alle percussioni Sono talmente tanti Che sono quasi difficili Da ricordare E sappiamo che il vostro gruppo Quasi nella sua interezza In questo periodo Sta suonando Proprio su questo piroscafo Durante le crociere del festival Che emozione vi dà Suonare su Un pezzo di storia Del lago di Como Come dici tu È un pezzo di storia E noi ne stiamo facendo parte In mezzo a questo territorio Che In prima persona Ci racconta Tutte le sue emozioni Le sue sensazioni La sua magia E Noi stiamo provando Tutte queste sensazioni E speriamo che anche La gente che salga E che salirà Su questo piroscafo E per questa crociera Abbia il piacere Di provare le stesse emozioni Infatti Gianluca Anche per gli spettatori È un'esperienza Del tutto nuova Ascoltare e suonare Sul piroscafo Patria Io ringrazio Imeragrama Per essere stati qui con noi Invito tutti voi Ad ascoltarli suonare Durante le crociere sul Patria Ma anche durante La prossima data Del festival Terra e Acqua A Zelbio Dove saranno anche Sul palcoscenico Proprio nel paese di Zelbio Cari amici Anche oggi siamo giunti Alla fine della nostra trasmissione Vi ricordo che Per partecipare Alle date del festival E alle crociere sul Patria Basta consultare il sito www.itinerarifolk.com Per segnalarmi gli eventi In corso In questi giorni Potete scrivermi All'indirizzo Terra e Acqua TV Chiocciolabativens.com Non mi resta che salutarvi E darvi appuntamento Al prossimo mercoledì Con Terra e Acqua TV E ciò che è un po' di più Ma è un po' di più A questo tempo Il treno Che è un po' di più Stato La ora A Milano E mi illustra La bella Madurina Che la gara Brilla De lontan Però adesso Per un petè La riva Del lago Che la brilla Inca De Vizeng Adamo E Deva Ierem Fa De Palta Terra e Acqua L'El Nos Destin